Paolo, ma diga, visto che è la novità del momento, l'artificiale che è stato lanciato da poco e ti devo dire la verità, ci sta dando notevoli successi, devo anche ammettere che in un primo momento l'artificiale concepito per la pesca in freshwater ha avuto un ritorno immediato proprio per questi tipi di approccio, quindi grande entusiasmo soprattutto per l'utilizzo nelle acque interne. Il concetto in sé nasce per la pesca del lucioperca e quindi l'azienda ha sviluppato tutto il concetto e il sistema anche pescante di quest'esca su questo tipo d'approccio, però quando anche l'abbiamo visto la prima volta, ci pescheremo a maggio e ci proveremo con iberca. Siamo convinti, certo, però a parte le spigole che funziona benissimo, eccetera, se stiamo sempre su quel discorso della sospensione anche questo ci aiuta. Ricordiamo un solo le versioni, perché il Maddiger viene proposto in una confezione combo con tre diverse grammature, la 5, la 10 e la 15 grammi, quindi questa proposta di grammature credo che sia anche perfetta per insediare le spigole. Certo, sì, beh diciamo è perfetta come grandezza di esca, poi dopo magari pesci più grandi sono più interessati a artificiali più consistenti, tu sai che io pesco anche con i 200 a spigole, quindi questo è molto molto da ricerca, io questo lo vedo bene, già dato ottimi risultati sui rombi per esempio, anche in leggera scaduta, sai che il rombo lo trovi a un paio di centimetri d'acqua, ma anche a 50 centimetri d'acqua, un metro, dipende dalle condizioni del mare, però è eccezionale perché questa cosa è importantissima, è fondamentale, cioè questa testa che è studiata proprio per entrare, fermarsi, quindi noi abbiamo questa, la cotina è importante, io non so se è stato detto, io sai sto un po' fuori dal mare, dai social sto più sull'acqua, quindi non so, secondo me è fondamentale l'incollaggio solo ed esclusivamente della parte piatta, perché non rischiamo che il pesce ce lo tiri dietro, quindi io incollerei solamente la parte piatta, lasciando molto molto libero questo movimento, quindi anche se io qui fermo, questo movimento rimane. Allora questa cotina, ok che la cotina funziona moltissimo nella discesa, e ci siamo, però è anche molto importante il fatto che su una scaduta di onda, su un'onda, su una anche leggerissima corrente di onda di scaduta, noi abbiamo l'artificiale che pur rimanendo quasi ancorato, senza attrazione, quasi ancorato al fondo, questa cotina continua a muoversi perché praticamente non ha il piccolo attrito sul fondo, cioè se fosse diversa, cioè come il Black Minnow, praticamente tenderebbe a scavare, quindi a piantarsi nella sabbia, quindi noi con la minima trazione o anche solo con un'onda di risacca, questa cotina continua a muoversi e questa è una cosa importantissima, è una cosa importantissima. È in sé proprio nel padro rovesciato, che non crea tritto sul fondo. Esatto, cioè non si punta sul fondo, se fosse stata come un normale Black Minnow, chiaramente questo che cosa fa? La prima cosa si ferma, si blocca, si infila sul fondo, no? Fatta in questo modo invece ci aiuta tantissimo anche nei micro spostamenti, ok? Già noi qui, con la minima trazione, a parte che abbiamo questo corpo che ha la giusta rigidità, cioè anche nei micro spostamenti, noi qui abbiamo tutto un movimento diverso. È importantissimo poi, le, scusami, è importantissimo poi, le tre misure, cioè noi qui nell'ordine dei due metri, tre metri d'acqua, possiamo pescare tranquillamente anche con 10 grammi, dipende dalla corrente che c'è, dalle condizioni del mare, ok? Perché arriviamo a 15 grammi e riusciamo a scendere sul fondo, ma se abbiamo un mare calmo di notte, cambio di luce, ricordiamo, qui possiamo, secondo me lo scorfano, la marmora, anche le marmore in certe situazioni è capitato di prenderle a giga, quindi con dei recuperi molto molto più veloci di questo, ma il rombo per esempio è una cosa, secondo me, quelli che noi abbiamo presi per il momento, c'è stata, da quando è uscito che abbiamo avuto un mare incredibilmente mosso, quindi, però le due o tre uscite che siamo riusciti a fare sono andati benissimo, anzi, me li ho ricordati, prendo dei colori un po' diversi, il giallo andava benissimo. E che ne abbiamo poi anche qui esposti, il giallo, ecco. Ah, questo qui è quello che ha funzionato tantissimo sul rombo, questo non l'avevo mai visto, questo glitter, questi in pratica sono i tre colori, anche il bianco, sinceramente, molto di contrasto. Tu mi avevi mandato il giallo e il bianco, il giallo ha funzionato tanto, però appunto, ripeto, cioè, è molto importante avere questi tre pesi, perché cambiando, sembra poco i 5 grammi, però, cambiando quei 5 grammi, riesci ad avere un'azione sempre molto, molto omogenea, su qualsiasi tipo di onda e di corrente. Secondo te, la lunghezza dell'artificiale è identica, è un 9 cm, come è il 9 cm, il Black Minnow. Secondo te, la presentazione, quindi, il fatto che ci sia una coda un po' più lunga rispetto ad un Black Minnow, che vantaggi li puoi vedere o che svantaggi, se vogliamo vedere? Beh, c'è molta più mobilità, a parità di... Considerato anche il fatto che l'uscita dell'amo qui è libero, perché c'è lo svaso che hanno creato in questa posizione, che rende l'intera coda mobile, quindi, a confronto con un Black Minnow, tu cosa... Prima cosa nel movimento, questo ci aiuta tantissimo nel movimento, noi qui con dei micro recuperi abbiamo un movimento incredibile. Ok, quindi ancora più forse del Black Minnow stesso, che va in movimento praticamente da solo. Facciamo un esempio, allora, per muovere un Black Minnow c'è bisogno di 40 cm, ok? Per dare un po' il completo movimento coda-testa-corpo, ok? Con questo tu riesci in pochissimo a far muovere corpo-coda. Ok, ok. L'amo esposto... L'amo esposto, eh. L'amo esposto chiaramente... Dopo nel corso della stagione... Parliamo dei pescatori, no? Quindi, cioè, sarebbe assurdo pescare su un fondale roccioso o un fondale di tremolina con un nome esposto. Cioè, c'è, ci sono arti artificiali, altri artificiali, ci sono altre tecniche di pesca. Questo è un artificiale che si usa nelle discese, anche su fondali rocciosi, ma in discesa. O altrimenti si usa su una sabbia, su una posidonia. Cioè, se stai sulla posidonia e esce, entra dall'ostacolo, dal minimo ostacolo, cioè, qui noi non ci abbiamo problemi. Perché la testina, fatta in questo modo, obbliga, obbliga proprio l'artificiale, l'amo, a stare nella parte alta. Quindi non si appoggia mai. Cosa che invece farebbe una qualsiasi altra testina montata su... Cioè, questo è chiaramente che si appoggia, perché non c'è una base. La bellezza di questo è proprio questa base che è importante, che ti dà, ti obbliga a stare in questo modo. Come scendi, scendi. Quindi qui già possiamo togliere parecchio rischio di incaglio. In più, cioè, è una testa che tende sempre a scendere in modo dritto. Chiaramente non va usato su un fondale roccioso o su una discesa di scogli. Cioè, però, mi dicevi il corpo troppo lungo? Assolutamente no. Assolutamente no, perché nessun pesce, no? Difficilmente, se parliamo di pesci di una certa taglia, cioè, dai 500 grammi in su, 400 grammi in su, nessun pesce andrebbe a bloccare una preta dalla coda, no? Certo, e tende ad attaccare sulla testa. Allora, la testa, la spigola attacca chiaramente in testa, quindi questo problema non esiste. L'amo potrebbe stare qui e la spigola mangia uguale, cioè, la prendi uguale. Ma qualsiasi pesce va a attaccare dal, diciamo, dal fianco. Quindi l'amo, secondo me, va benissimo. L'amo, la lunghezza, il rapporto lunghezza-amo, è perfetto. Perfetto, quindi proprio rispetta il nome dell'artificiale, perché Matt Digger è proprio che scava nel fango. Ah, ok, perfetto. Quindi che scava nella sabbia e questa è la proprietà principale. Certo, è normale, è chiaro, perché loro, cioè, proprio per quella cosa che dicevamo, no? Cioè, anche qui rimane, riesce ad entrare nella sabbia, questa rimane fuori. Esatto. Anche il minimo movimento, questa continua a muoversi. Sì. Per quello è importantissima questa coda rivolta. Siamo convinciti che è un altro artificiale che ci toglierà grandi soddisfazioni anche in mare. Sì, sicuramente. Ci aspettiamo solo delle condizioni migliori meteo. Speriamo. Speriamo di avere qualche bella cattura. Sì, sì, sì. Che già abbiamo avuto, eh? Sì, però erano... Sporadiche. Bisogna aspettare... C'è stato troppo mare. Perfetto. Però vedrai che... I rombi che abbiamo preso adesso erano, diciamo, rombi normali. A noi non ci piacciono queste cose normali. Dobbiamo andare un po' avanti. Aspettiamo che calmi un pochino la situazione mare. Perfetto. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie a te.